E in una valanga di offerte per il Black Friday, benvenuti e bentornati amici effenauti, oggi voglio condividere con voi qualcosa di personale, prendendo spunto da qualche commento che è arrivato sotto le mie interviste a street photographer più o meno famosi e più o meno affermati, ma anche prendo spunto da qualche commento che è arrivato random su E-Festival, la nostra prima mostra a cielo aperto. E a proposito partecipa anche tu a E-Festival perché sarà qualcosa di molto diverso a quello a cui si è abituato, qualcosa di diverso dal solito. E anzi scrivetemi anche nei commenti giù che cosa ne pensate e se volete sapere qualcosa in particolare. Oggi però voglio fare un video personale perché io non sono uno che ignora quello che gli viene detto oppure che cancella quello che per alcuni potrebbe essere considerato come sconveniente. Perché io personalmente considero sempre tutto importante e quindi vi chiedo di apprezzare un po' di sincerità. Anzi, vi chiedo di iscrivervi al canale e condividere questo video per continuare insieme a scoprire quanto è profonda la tana del bianconiglio, la nostra cara street photography. Io lo ammetto, a volte posso sembrare un po' duro nelle mie discussioni e anche autoritario nelle decisioni che prendo, però non è sempre così. Dipende molto dal tema che tratto e da chi ho di fronte. Quando si tratta di argomenti seri, cioè quelli molto cari a tutti, diciamo, come la street photography, sia a voce ma anche per iscritto, spesso mi sento dire Tullio, ma vuoi avere sempre ragione? Oppure Tullio, non accetti le opinioni diverse dalle tue e di recente mi sono sentito dire anche attento a non diventare dogmatico. Che tradotto significa intransigente, categorico, infallibile e insolente. Facciamo pure che decido di non ricordare tutte quante le varianti, ma il senso del discorso è quello e penso che l'abbiate capito anche voi. Ogni volta che io sento queste affermazioni oppure leggo questi commenti, un po' mi dispiace, perché penso che sicuramente avrei potuto e avrei dovuto esprimermi meglio, anche perché in fondo è un mio dovere non lasciarmi fraintendere. Io sapete come la penso su questo, no? Per me è un piacere stare qui a parlare con voi perché mi arricchisco, imparo da tutti e proprio questo mi impone anche tanta attenzione nel parlarvi, per provare anche a restituirvi il massimo. E credetemi che io ce la metto veramente tutta. Ma alcune volte, sono sincero, sorrido anche tra me e me, perché penso che qualche volta ho sopravvalutato il mio interlocutore. Perché io, non direi mai a nessuno, non tolleri le opinioni diverse dalle tue. Non lo farei in nessuna situazione, perché questo è un attacco personale, non è una critica costruttiva. E quindi non capisco perché debba farlo qualcun altro. A me non interessa avere per forza ragione, avere l'ultima parola, oppure che mi diano ragione per forza gli altri. E quello che mi rigidisce a me, invece, è vedere che gli altri vogliono avere l'ultima parola come fosse una verità inconfutabile. Oggi, se dici una cosa di cui sei assolutamente convinto e che non è ortodossa, la gente si stupisce, si indigna e ti addita come un presuntuoso. Però non è sempre stato così. Questo è diventato un segno della vittoria del relativismo culturale, il fatto che oggi tutti quanti debbono parlare per forza di rispetto per le opinioni altrui, dando valore a questa idea e criticando invece chi difende con forza le proprie idee, quindi quello che, per esempio, io faccio con F4. Io, personalmente, mi identifico in una corrente di pensiero che sostiene fortemente la libertà di espressione, in ogni sua forma, anche quella artistica. E questo significa che non giustificherei mai l'uso della forza contro qualcuno per le sue idee, tantomeno la forza verbale. Chiunque deve essere libero di esprimere quello che vuole. E questa cosa la penso così seriamente che difendo questo principio con fermezza. Ma. C'è un ma. E il ma è che la libertà di espressione è diversa dal vago rispetto delle opinioni altrui. Libertà di espressione significa poter criticare duramente le idee degli altri, anche le mie, ovviamente. Suffragate però le critiche da fatti concreti. Il rispetto per le opinioni altrui suona bene, ma siete davvero convinti che sia innocuo? Cioè, dover rispettare le opinioni altrui, qualsiasi esse siano, porta a una deresponsabilizzazione su quello che si ascolta e su quello che poi si dice. Si finisce per non prestare più attenzione a quello che si sente, perché tanto non è il nostro compito e non è buona educazione evidenziare incoerenze e falsità. Diventa quasi normale dire cose senza curarsi della logica della coerenza. E se qualcuno critica quello che abbiamo detto, oppure quello che pensiamo, allora la reazione tipica è diventata offendersi. Perché siamo diventati tutti quanti un po' troppo sensibili. Nel caos mentale odierno, quando la gente pensa di poter dire qualsiasi cosa, finisce per non fare più caso quando impone regole che dettano agli altri come comportarsi. Il rispetto per le opinioni altrui anestetizza la capacità di distinguere tra ciò che si dice e quello che poi si fa. Quello che conta per me è che ciò che dico sia vero e che sia argomentato. Certo, riuscirci poi è un altro paio di maniche, è tutta un'altra storia, ma anche qui io ce la metto tutta. E ritornando alla nostra amata street photography, tutto quello che dico qui è suffragato dalle mie fotografie sul profilo e dalla libertà di espressione che difendo per i fotografi che si avvicendano nel feed di F4. La convinzione che ognuno di noi detenga la verità assoluta guardando dall'alto in basso chiunque non condivide il nostro punto di vista è un atteggiamento che purtroppo è diventato la norma in una società dove le opinioni si scontrano con una violenza verbale che lascia ormai poco spazio al dialogo. Per non parlare dei social, che sono un vero e proprio diluvio di offese, spesso nascoste dietro la sicurezza di uno schermo che evita il confronto faccia a faccia. Le etichette oggi sono diventate, sono l'ordine del giorno. Quindi se mangi carne sei etichettato come un insensibile, un assassino. Se sei pro vaccini sei un burattino delle multinazionali, sei figlio di Bayer. Se non fai dormire il tuo cane in casa non ami gli animali. Se invece sei in sovrappeso, come me, ti manca l'amore per te stesso. E se fotografi un gatto non fai più street photography. E se contraddici Ferrillo oppure Saramunari, allora sei d'accordo con il sistema. Oppure se sostieni che è una foto brutta, spesso la si vira al bianco e nero per la superbia di non accettare il fatto di aver fatto una brutta fotografia, allora sei un insolente. Ecco, queste generazioni estreme mi fanno davvero nauseare, mi fanno innervosire. Ma siete veramente così convinti che sia importante avere sempre ragione? E che la vita debba essere per forza o bianco o nero? Dobbiamo per forza tutti quanti pensarla allo stesso modo? Perché viviamo con questa rabbia, questa incapacità di accettare un punto di vista diverso dal nostro? La diversità è una ricchezza, perché ci sfinge a riflettere, a mettere in discussione le nostre convinzioni. Ogni opinione che è contraria alla mia, per me è un'opportunità per crescere, per rafforzare le mie idee, oppure magari anche per modificarle. Dobbiamo imparare a ridurre l'aggressività nelle nostre discussioni, a sederci uno accanto all'altro, a parlare, a confrontarci e poi ognuno è libero di seguire la propria strada, senza giudizi, senza offese. Ma io parlo sempre di condivisione. Angelo Ferrillo ha detto una cosa dalla mia ultima intervista che mi ha colpito molto. Si torna sempre a casa con qualcosa in più, ha detto. Magari con la consapevolezza di aver imparato qualcosa che non ci serve, di aver ascoltato qualcosa che non fa al caso nostro. Ma già soltanto questo ci ha insegnato qualcosa, e cioè fosse soltanto aver capito che cosa vogliamo, oppure quello che stiamo cercando. Noi stiamo vivendo tempi interessanti dove ognuno di noi può crescere, può saperne di più su tutto, semplicemente attraverso uno schermo. Assorbiamo informazioni in continuazione, perché abbracciamo e confutiamo idee soltanto con un click, quello del mouse. Abbiamo tutto oggi, non ci manca nulla. Siamo fortunati, direbbero, i vecchi come me. Ma la risposta però non sta nell'informazione, sta nel modo in cui assorbiamo le informazioni. Ogni folle può sapere, il punto è capire, dice Einstein. E quindi oggi, invece di ampliare i nostri orizzonti, ci stiamo accontentando delle esperienze degli altri, senza fare le nostre. Perché conosciamo già gli ostacoli, allora non ha senso provare. Che senso ha? Mi evito così un sacco di fatica e magari anche qualche scivolone. Qualche sbucciatura? Ah, l'amata ignoranza da cui arriva la conoscenza. Questo si recitava in Matrix. Pillola rossa o pillola blu? Il modo migliore di evitare che un prigioniero scappi dalla prigione è assicurarsi che non sappia mai di essere in prigione. E io con F4, personalmente, ho scelto la pillola rossa. E cioè il paese delle meraviglie. La street photography. Io per questo ho dato vita a un mondo dove mettersi in gioco, iniziare da capo, fare, sbagliare, riprovare, condannare le etichette, anche le mie. E combattere così il politicamente corretto. Perché è visto come censura della libertà di espressione. Io sono qua. Ditemi pure cosa ne pensate. Ciao e alla prossima settimana. Ciao e alla prossima settimana.